Per il città di Messina è stato ieri il giorno del trionfo nella sfida del Marullo contro il Camaro. I padoni di casa avanti con Rossano sono stati poi raggiunti al solito cardia ed è stato festa. Imbattuta nel derby, la squadra di Furnari ha conquistato quindi la matematica a promozione nella Serie D con tre giornate di anticipo. Il sogno è diventato quindi in realtà con i giallorossi che hanno conquistato la matematica a promozione nella Serie Superiore. La squadra del presente Lorè, del tecnico Furnari, ha quindi tagliato un traguardo inatteso in estate ma estremamente meritato, come confermano in modo eloquente il numero di un'esaltante stagione. 70 punti, 28 partite disputate, frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte e una difesa quasi impenetrabile, appena 9 gol subiti. A fare da cornice all'ultimo atto dell'impresa, un marullo di bisconte gremiti in ogni ora di posto che attende ora soltanto l'inizio dei lavori che dovrebbero cominciare a fine mese per realizzare il manto in erba sintetica. Per quanto riguarda le altre partite di spicco, il Biancavilla ha travolto con ben 5 reti lavori in una sfida senza storia, con doppiette per Lucarelli e Caruso, mentre il Sandacat ha segnato 4 gol in 28 minuti senza dare scampo al paterno messinesi che ipotecono quindi il secondo posto e restano in corsa con un posto playoff.